Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Boom Beach Allora, sono arrivati al livello 9, guardate quanta legna Che bella cosa Ho upgradato il quartiere generale, no ancora non c'ero io perché mi servono 13.000 di legno ragazzi Quindi io direi, io direi, ho fatto un po' di potenziamenti, ho potenziato tutto quello che era potenziabile Infatti sono arrivati al livello 9 anche per quello Allora qui ho tanti moin, coin, però se praticamente li prendo adesso faccio un guaio perché vorrei andare a fare qualche combattimento Allora, prima cosa molto particolare, visto che ho aumentato il radar mi è arrivato il primo attacco Adesso non vi posso far vedere l'attacco perché l'hanno fatto ieri sera se non erro E la visuale della battaglia dopo un giorno sparisce, anzi un giorno e 15 ore fa precisamente Mi è stato fatto da Messi, livello 8, Messi dovrebbe essere uno dei nostri fan Quindi se sei in ascolto guarda qua sotto Allora intanto mettete le tanti mi piace perché abbiamo iniziato la puntata Riscatta e ricompensa, ok abbiamo vinto una gemma perché ci hanno attaccato Allora vediamo un po' qui che c'è Andiamo a recuperare un pochino di robina Vediamo un po' che cosa abbiamo Un po' di gemme, un po' di diamanti Lì c'è qualcuno Potremmo attaccare già qualcuno però io so che ci sono rimaste delle isole da attaccare Tipo scorta di munizioni Andiamo a farci scorta di munizioni A parte che voglio rimettere i suoni perché così non si può giocare Ok Abbiamo rimesso i suoni Oh ecco l'acqua Allora Io direi andiamo ad attaccare Prima canna pesante così ce lo leviamo Perché tanto sicuramente a un livello 1 sarà scarsissimo Si infatti attacca Così sprechiamo anche un po' di ori perché ce ne abbiamo veramente tanti E andiamo a farci il nostro attacchino Allora Tanto come al solito questi si consumano immediatamente Quindi posso fare una cosa di questo genere Ho sperato di colpire più centrale Ma se colpisco più centrale mi sa Non faccio danno a niente infatti E farei anche una cosa di questo genere Mi hanno detto Quello di colore Mettilo davanti perché Fa da tank diciamo Ok Si ma dovete andare qua Ok perfetto Ok Buttatelo giù Senza perdite Fantastico Io direi Diamogli una mano Ok Perfetto Butta giù Se lo siamo levati senza perdite Così almeno ero livello 1 Addio proprio Morto Perdite nessuna Una moneta 930 di oro E 699 di legna Allora 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 Li fanno i fuochi d'artificio Ok Io direi di andare a fare questo livello 6 Così ce lo leviamo dalle scatole E posso cominciare ad attaccare un po' di voi Anzi quel dark che non so chi sia effettivamente Allora Questa mi sembra Talquanto fastidiosa Per un motivo Soltanto Quei due Cosi lì giù Perché la mitraglietta Mal che base riesce pure a menare Secondo me Quindi io ti direi un colpo qua Un colpo Qui giù Non so se riesco a fare dei danni in questa maniera Ok Mi sa che ho fatto qualche danno anche centrale E Mandiamo Lui avanti Qua No ho fatto una cappellata Ne sono sicuro Forse no Forse no Perché lui sta tankando e non prende danni Ok Tu mori subito Perfetto Ok Allora io vorrei fare una cosa del genere No non posso curarmi Questa è una brutta cosa Oh ok Non ho Non ho avuto perdite Mi sa Vediamo un po' Un tempo questo era un sepolcro costruito dai nostri antenati Pieno di statue antiche Credo che le statue contengano un potere formidabile Ecco perché la guardia nera le vuole tutte Ok Sappiamo una cosa nuova Perdite nessuna GG È andato benissimo Ok Ho 17000 Intanto io direi di esplorare un po' di roba Ok Mi prendo monetine Esplora Ok Io esploro tutto adesso Non mi prega niente Allora Oh monetine Allora io direi Visto che qui c'è un certo dark angel Livello 8 Io sono livello 9 Anzi qui c'è pure un napiz adesso che è apparso Per lustra Andiamo a vedere com'è fatto Ok È ben difeso Però ha fatto un piccolo sbaglio Ha mucchiato tutta quella roba da quel lato Però c'ha le mine messe bene Ci vogliamo provare? Ci proviamo? Dai che ci proviamo Allora Io direi di fare una bellissima cosa Di rompere un po' alla volta Ci provo Sicuramente perdo Perché non sono abituato ancora agli attacchi contro di voi Faccio un attacco in questa direzione Voglio levarmi Quello Me ne faccio un altro Perfetto Non ho altri punti Io farei una cosa del genere Mi butto questo di qua Anzi Sì Questo di qua Lo mando un attimo un pochino più avanti Così sta distaccato dagli altri Perfetto Tutto da questo lato Dai Ok lo butta giù Vediamo un po' Sembra che sta funzionando Tiro una cura Dai Pura d'aria Perfetto Ottima tecnica Mi li stai uccidendo? No dimmi te no Ah è tosto questo Mi sta a togliere troppe truppe E se ci direzioniamo lì? Boom Vai Ok ho perso un po' di unità Però l'attacco Sembra essere andato Ok Se attaccare tutti qua Abbiamo vinto Dai Perfetto Eh però mi stanno attaccando Ah Non me ne so accorto Mi sa che qualcuno mi more Eh sì C'ha le torri potenziate bene Quindi ho consumato un po' di gente Sapete che manco ci riesco Guarda eh Porca zozza No Mi li sta uccidendo tutti Ho fatto una cappellata Quanta vita c'ha? No Non voglio Voglio vedere quanta vita c'ha Eh Non lo so Mi sta amenando sul Quello di colore Quindi presumo che non morirà Ok Forse ce l'abbiamo fatta No Oddio non lo sta attaccando Oddio Oddio Abbiamo vinto Dimmi che abbiamo vinto Però com'è Io ne vedo due vivi Tre vivi What? L'abbiamo liberato però Abbiamo vinto Abbiamo perso unità Su unità 6.000 gold 6.000 di legno E due Perdite Uno e nove Dice Cazzarola Belle perdite però eh Valuta Boom beach Più tardi Mamma mia Abbiamo ammazzato qualcuno GG GG davvero Si ho capito I fuochi d'artificio 25 ori Ah ok Anche le isole A fianco contano Anche se sono dei player Come se fossero Dei potenziamenti E dei nemici 12.000 ragazzi L'unico problema È che qui ne richiede 13.000 E non c'entrano Quindi la cosa brutta Che dovrò fare È allargare Obbligatoriamente Questo Il magazzino Della legna Quindi dovrò usare 3.120 Allora Io adesso faccio Una bella cosa Rinforza Rimettiamo a posto Tutte le nostre Belle truppe Perfetto Abbiamo fatto Un po' di guadagno Questo lo devo rifare Perché ce l'hanno ammazzato Vuoi finire di caricare Tutte le truppe Per 10 diamanti No Neanche per sogno Cioè Ma what the fuck Va bene ragazzi Io direi che possiamo Anche andare Tranquillamente Tutti a casuccia Perché abbiamo fatto Un altro attacco Abbiamo fatto un altro attacco Più grande Abbiamo fatto un attacco A un player E abbiamo vinto Anche se abbiamo fatto Delle perdite Che ancora non sono capace Di attaccare bene Datemi sempre tanti consigli Qua sotto nei commenti E ci vediamo Alla prossima puntata Di Boom Beach ragazzi